cari ragazzi sono rino martinez il nostro è un appello urgente abbiamo bisogno del vostro sostegno del vostro aiuto per garantire la nuova missione che partirà a settembre e che ci permetterà di curare e salvare migliaia di bambini pigmei e bantu della foresta equatoriale in congo questo bimbo che vedete nelle immagini purtroppo non ce l'ha fatta è morto è morto la scorsa settimana avremmo potuto salvare anche lui piccolo angelo che ha tanto sofferto con il dottor beppe diana e medici congolesi realizzeremo all'interno della foresta interventi chirurgici di ernia ombelicale cure e terapie per patologie endemiche aiutateci a salvarli abbiamo bisogno del vostro aiuto economico ed inoltre di due defibrillatori e ancora strumenti e attrezzature di sala operatoria insieme possiamo salvarli insieme basta poco seguite per favore le istruzioni grazie grazie a tutti grazie a tutti